Mi sento un po' come quando non vedevi un amico da tanto tempo e lo incontri per caso, no? E gli fai, uè, e che ci fai di qua? La confraternità d'acciaio. E chi l'avrebbe mai detto che ne avremmo parlato anche in questo capitolo? A quanto pare per tutti quelli che vedono Fallout come una religione, questa è una cosa molto dura da mandare giù. Prima di poter fare chiarezza vi dovrò raccontare la storia della nascita della confraternità d'acciaio. Iniziò tutto. Il 10 ottobre del 2077 il capitano Maxson e i suoi uomini scoprirono con orrore che gli scienziati della Westec a Mariposa stavano usando i prigionieri di guerra come cavie dei loro esperimenti genetici con il virus evoluzione forzata. Stavano creando i super mutanti. Il morale della base collassò. Il colonnello Spindel venne colpito da un sarimento nervoso e si suicidò cinque giorni dopo. Gli uomini del capitano Maxson si rivolsero a lui. Roger Maxson decise di giustiziare tutti gli scienziati della Westec. Ora aveva il controllo di Mariposa. Dichiarò a via radio la sua disersione il 20 ottobre del 2077. Stranamente non ebbe risposta dalla catena di comando dell'esercito, perché il resto dell'esercito era troppo impegnato a combattere la minaccia cinese. Tre giorni dopo, il 23 ottobre del 2077, gli arsenari nucleari di entrambi i continenti furono lanciati. E la grande guerra finì due ore dopo che era cominciata. Trasformando la terra in una landa radioattiva. Si salvarono grazie agli altamente efficaci protocolli di protezione della base di Mariposa. Il 25 ottobre il capitano Maxson condusse i suoi uomini e le loro famiglie nel bunker anti-atomico governativo di Lost Hill, in California. Raggiunsero quel bunker a novembre di quell'anno. Subirono ovviamente molte perdite a causa delle terribili condizioni della zona contaminata, inclusa la moglie di Maxson. Il bunker di Lost Hill divenne il quartier generale dell'organizzazione paramilitare appena creata da Maxson e chiamata Confraternita d'Acciaio, con lo scopo di usare le sue risorse per ricostruire la civiltà umana a qualunque costo. Che figata ragazzi. E da qui poi si sono triggerati veramente tutti, perché a quanto pare sarebbero dovuti rimanere 50 anni dentro questo Volta. Invece come sapete ora sono su Fallout 76, ambientato nel 2102, e invece sarebbero dovuti uscire nel 2134, secondo tutti. Infatti ci staranno tutti i youtuber, tutti arrabbiatissimi a fare espressioni triggerate. La cosa che dovete sapere... Ma non voglio eleggermi a super esperto di lore, perché neanche lo sono troppo. Ma quello che sappiamo dal 2077 al 2134 è niente. Sappiamo che sono stati nel bunker in teoria. Sappiamo che da un certo punto si iniziano ad avere notizie di loro fuori. Ma non possiamo sapere se un piccolo gruppo sia partito, magari per una telefonata, diciamo. Pronto? Ciao, sì. Roger Maxson? Abbiamo un problema, qui ci sono dei pipistrelli giganti che ci fottono le mucche. Mucche a due teste, sì. Venite a darci una mano. Tecnicamente è andata presto a poco così. Questa è la spiegazione che ci dà Bethesda, che ci dice che grazie a un satellite sono riusciti a mettersi in contatto con il bunker di Lost Hill, dove è Roger Maxson, con la confraternità d'acciaio, creata da pochi anni, da una trentina. In teoria noi da Fallout 1, quando li incontravamo, loro non erano abbastanza amichevoli e sembrerebbe che non abbiano avuto contatto con altre persone da molti anni. Però non è certo, non è che è scritto da quell'idea che non siano usciti da allora, ma non è detto se un piccolo Plutone sia stato mandato in ama scoperta verso proprio gli Appalaci. Perché a quanto pare sono stati contattati tramite un satellite, sono riusciti le ultime... l'organizzazione militare, le ultime forze rimanenti in West Virginia sono riusciti a contattare Maxson, non si sa bene perché. Io ovviamente la mia teoria ce l'ho, è per questa infezione che ha preso tutti gli esseri viventi che stanno nel West Virginia, tutti gli umani. Calcolando l'anno che è il 2102, in teoria questa è la prima missione della confraternità d'acciaio, in assoluto, perché in teoria dovrebbe essere il 2134. Ma a quanto pare no. Una parte di esploratori è andata in West Virginia, a quanto pare. Mo' andiamo a vedere un attimo quello che sono riuscito a trovare. Il primo avvistamento l'avremo a Huntersville, a sud-est della mappa, nei pressi di Watoga. Per sopravvivere in questa zona bisogna essere di alto livello. Per fortuna ce li segnala come alleati, perché avere la confraternità d'acciaio come nemica non è una cosa molto piacevole. Per quel poco che ne sappiamo adesso, sembrerebbe che avremo contatto con la confraternità d'acciaio soltanto attraverso i Vertibird. Come vedete, a quanto pare sono loro a rilasciare gli approvvigionamenti governativi. Se non state capendo e non sapete di che cosa io stai parlando, significa che non seguite bene i miei video, quindi andateveli a vedere, sono linkati in descrizione. La città che stiamo avvistando da questo altopiano fighissimo è Watoga. Tra poco la riconoscerete perché l'avete vista nel trailer con il Vertibird precipitato. Qui probabilmente avremo la possibilità di trovare qualche indizio come Olonastri o magari partirà proprio una missione. E magari scopriremo il perché si sono recati qui in West Virginia. Per adesso è ancora un mistero anche per me. E quindi si aggiunge alla lista delle prime cose che faremo quando inizieremo questa avventura. Certo che visto che sono riusciti a integrare la confraternità d'acciaio in questo modo, potrebbero integrare a questo punto anche l'enclave, perché no? Per quanto ne sappiamo noi anche l'enclave è rimasto isolato su una piattaforma blindata al centro dell'oceano. E chi lo sa se un piccolo gruppo si è nascosto in qualche bunker qui in West Virginia. Ricordo con molta nostalgia i bei tempi quando veniva annunciato un gioco e nessuno si metteva a leggo i libri di storia. Ah, vediamo se hanno sbagliato qualcosa. Ma che te frega? Cioè, ma manco davvero un libro di scuola fa un errore di una data? Non gliene frega un cacchio a nessuno? E poi dopo esce un gioco, c'è la gente malata, ragazzi. Siamo ossessivi compulsivi, siamo diventati proprio le ossessioni per la lore. Certo, ma non ce la faccio giocare sapendo che hanno fatto questi tremendi errori. L'armatura della confraternità d'acciaio. Lo stemma, la rotella, era a sinistra nel 2110. Ma voi state fuori, è stata spostata dopo nella West Coast, che però è nata nel 2200. Ma va cazzo, ma fatevi curare, ragazzi. Ma porca... Eh, quelli erano bei tempi, vi ricordo, su Fallout 1, quando potevi scegliere, prendere delle decisioni. Quelli erano giochi. Non come quelli di oggi. Fanno schifo. Che poi paradossalmente sono anche d'accordo, però basta, raga. Cioè, io sono il primo ad apprezzare e amare la lore di Fallout, però ormai è arrivato quasi a un livello di fanatismo religioso. Cioè, c'è gente che sta fuori di testa. Un tempo usciva in gioco e diceva, oh, com'è quel gioco? Oh, mazza figa, oh, mazza figa, oh, mazza ai monstri, oh, figa, oh, bello, è multipla, oh, forte, dai, figa. Poi vabbè, è vero, è un Fallout, è tutta una storia, oh, Fallout multiplayer, oh, vediamo com'è. Parliamo. Prima di sparar giudizi, perché proprio sta, cioè, nel senso, sembra tipo noi diecimila che gioveremo in Italia. E resto lo odia, da quanto ho capito. Cioè, tipo, chiunque parlo, no, non lo compie, perché fa schifo. Allora, importante. Mia ieri stai a giocare a Fortnite. Comunque, Todowars ha voluto lasciare un messaggio a tutti i suoi fan, e adesso lo ascolteremo insieme. Molte persone si sono arrabbiate per la loro di Fallout. Io non capivo perché, poi mi sono venuto e mi hanno detto, vedi, lo stem era così, e ora è così. E io gli ho fatto, ma dici sul serio, era questo il problema. Ma scopa di più, fai come me, il fottuto Todowars. Troppo forte, Todowars. Siamo sempre nella stessa lunghezza d'onda, cioè, una cosa assurda. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Questo personaggio è vivo e quindi lo potremo incontrare, ci potremo interagire, perché avevano detto che non ci sarebbero stati NPC umani. Ok, ragazzi, c'è avuto un'illuminazione notturna. Praticamente il video era già caricato, mi è venuto in mente. Dico, Todowars aveva detto che non ci saranno stati NPC umani, avete detto umani, al di fuori di quelli che escono dal Vault. Noi giustamente abbiamo dato per scontato che quelli che uscivano dal Vault eravamo solo noi, quindi non ci saranno stati NPC. Invece, se la guardate bene, guardate l'immagine, se vedete, ha un Pip-Boy, di conseguenza è uscita anche lei dal Vault e molto probabilmente, tappate le orecchie, perché potrebbe essere uno spoiler, non è una cosa sicurissima, potrebbe essere, mi sa che il sovrintendente, perché il sovrintendente era donna, ha un Pip-Boy, probabilmente è l'unico NPC, non so come è possibile, perché è anche il capo dei predoni, sovrintendente. Mi sono strana come cosa, però boh, comunque è uscito da un Vault, quello è sicuro, quello è certo. E niente, con questa notizia bomba è tutto ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ricordatevi di iscrivervi, condivide, cliccate sulla campanella, perché così YouTube vi avviserà quando io caricherò un video, visto che non è che ho un orario preciso, è un giorno, quindi mettete sulla campanella che vi avvisa, perché quando c'è una notizia io vi avverto. E dai, bella raga, alla prossima.